Oggi sono qui con Wind, un maschio di tre anni di razza dalmata, molto conosciuta in tutto il mondo anche grazie al film del 1961 della Disney che ne mise in risalto non solo esteticamente la bellezza e l'eleganza, ma anche l'intelligenza, la sensibilità e il carattere particolarmente versatile. I dalmata hanno origini antichissime e si ritrovano infatti tracce di cani amacchi addirittura nei geroglifici nelle piramidi egizie e le sue origini le vede nelle coste della Dalmazia quindi si può definire un cane mediterraneo. È un cane che ha bisogno di fare molto movimento sicuramente è un cane adatto soprattutto alle persone che amano la vita all'aria aperta, è un ottimo compagno di vita, è un buon cane per le famiglie e se adeguatamente educati, tanto il cucciolo che il bambino, è un ottimo cane, un ottimo amico per i bambini e io sono solita dire di questo cane che è la gioia di vivere fatta cane e che riesce a trasmettere questa sua voglia, questa sua gioia a tutti quelli che gli sono intorno e che decidono di fare strada con lui.